Non sarà più allestito nei locali dell'Exegile il Museo della Settimana Santa, sono infatti scaduti i termini del contratto e successivamente della proroga per le due associazioni nissene a Teper e al Mestranza che ne avevano ottenuto la concessione ad uso gratuito lo scorso anno dopo aver risposto ad un avviso pubblico. Il 10 marzo del 2021 l'assessore a Tobbeni Culturali delegando me come soprintendente ha sottoscritto un contratto pubblico con le associazioni a Teper e al Mestranza per utilizzare i locali a piano terra dell'immobile Exegile, quindi quelli dove un tempo c'era la palestra, per adibirlo al Museo della Settimana Santa. Il contratto prevedeva che entro un anno dalla stipula contrattuale occorreva rendere fruibile il museo, quindi l'apertura al pubblico. Nel mese di marzo, poco prima della scadenza contrattuale, nel mese di marzo 2022, le due associazioni hanno chiesto una proroga in considerazione del fatto che la pandemia aveva rallentato i lavori di allestimento. Abbiamo concesso questa proroga di otto mesi, ma che scadevano appunto a novembre del corrente anno. Il museo non è stato reso fruibile entro quella data, per cui secondo la clausola che prevedeva la rescissione del contratto, se il museo non fosse stato reso fruibile entro i termini previsti appunto contrattuali, abbiamo inviato una comunicazione di rescissione del contratto che avverrà con decorrenza da giorno 7 dicembre. Alcune difficoltà riscontrate durante il percorso avrebbero portato le associazioni a prendere la decisione di non proseguire con la sua realizzazione. E dunque è stata una scelta, così come ci spiega Salvatore Alfano, presidente della TEPA, parlando a nome anche dell'associazione Real Mestranza. Noi avevamo iniziato a lavorare per la progettazione e l'allestimento del museo. Avevamo anche di fatto iniziato a portare dentro al museo oggetti, racconta, che avrebbero dovuto far parte del materiale espositivo. Avevamo già bozzato, allestito una prima bozza di progetto, che poi mostrata alla sovrintendenza andava completata. Avevamo iniziato a cercare anche dei finanziatori, anche tra soggetti privati, imprenditori. Però tutta la questione della pandemia lockdown ci ha da un lato ritardato e poi anche fatto venire meno successivamente quei finanziamenti sui quali noi contavamo. Dunque sono arrivati ad una conclusione. Considerate le difficoltà che abbiamo incontrato nella messa in opera prosegue, in esecuzione del museo abbiamo valutato che era opportuno a quel punto sospendere, annullare e abbandonare il nostro stesso progetto.